Arriva Un G4, lascio un G4 Sono entrando, sono entrando Lasciate più usare? Eh no, allora Cazzo che è No, vabbè Ma è poi che hai gridato dal tuo Discord per sentirlo così forte No, ero eh Grande, toh eh Ma hai visto il del genere, ero così? Ma io non ho capito se me l'hai chiamata in ritardo oppure l'audio è caricato in ritardo Mi sono trovato la scorcia dietro al culo Eeeh, non lo so Non lo so